Gli abitanti della regione di Donetsk in Ucraina hanno accolto con favore la notizia del via libera per il loro paese allo status di candidato all'Unione Europea. Tuttavia alcuni non sono convinti che l'obiettivo dell'adesione effettiva sarà raggiunto. Sono contento della decisione. Con Poroshenko siamo andati avanti tanti anni e non ci siamo riusciti. Adesso ci siamo arrivati velocemente. Zelensky si è mosso meglio. La decisione in sé è buona, ma cosa faranno nel concreto le nostre alte istituzioni? Non siamo pronti, ecco. C'è molta strada da fare per questa decisione. È una decisione affrettata e non siamo ancora pronti. Un'altra residente si augura che tutte le aree del paese tornino presto sotto il controllo ucraino. La decisione è presa e va molto bene. Nulla dipende da noi. Ma spero che presto tutto si sistemi, che tutto vada bene, che tutto torni ucraina. Voi rischidete. Viva bene, è quella грò di 小ità. Viva bene. Beh bene. Viva bene. Viva bene. Grazie a tutti.